Ciao a tutti i malati di Milano e non. È un po' spartita felice perché sono arrivati tre punti. Felice ma con una sensazione di gioia strappata, di gioia tolta per un fuorigioco. Veramente, veramente una tristezza. So benissimo che ne arriverà, arriverà il gol di Francesco Camarta ma voglio partire spiegandovi quello che è successo perché è stata un'emozione incredibile. Penso sia poi l'emozione più forte della partita, il suo ingresso e si scherzava, no? Si scherzava sul fatto adesso entra e segna, poi è successo veramente. E non ci potevo credere. Cioè questa è la mia reazione ragazzi, è una follia pura, guardate. Di qua. È una roba senza senso, un'emozione unica, veramente raga mi stavo scappando veramente da piangere dall'emozione, avevo le lacrime che stavano per scendere, avevo l'occhio lucido e poi fuori gioco. Dallo stadio ovviamente ragazzi non si era percepito da casa rivedendo le highlights. Sì, molto di più rispetto che dallo stadio. Resta il fatto che è un peccato, un peccato incredibile perché sarebbe stato veramente meritato. Meritato, meritato per il ragazzo che è Camarda. Ripeto, un ragazzo veramente, a parte un fenomeno, perché è un fenomeno, perché è un fenomeno. Però un ragazzo veramente d'oro, milanista, milanismo dentro, incredibile, il nostro futuro e siamo contentissimi, siamo contentissimi. Ho tolto argomento Camarda che, ripeto, è solo l'inizio. Ne sono convinto, ne sono sicuro, è solo l'inizio, non vediamo l'ora di vivere queste emozioni ogni volta che la butterai dentro, fra. Quindi, calma calma gol. Stiamo sereni, stiamo tranquilli che lo show inizierà e il suo destino lui la rete gonfierà. Parlando invece della partita, tra l'altro, ragazzi, prima di farlo, lasciate un like, un commento al video, ditemi quello che pensate su questa partita, sulla prestazione dei ragazzi e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ragazzi, è totalmente gratuito, mi sostenete in questa maniera, spero possiate farlo, spero non sia troppo difficile, spero di non chiedervi troppo. Allora, partita brutta, cioè brutta, non bella, non bella, non dico brutta perché comunque alla fine hai vinto e sei portato a casa di tre punti ed è quello che contava ed è quello che importa. Però sicuramente non possiamo parlare di una bella prestazione perché sei partito veramente male, hai rischiato di prendere due, tre gol, barra quattro nella prima mezz'ora con varie ripartenze che non hanno sfruttato sia nell'ultimo passaggio e sia nell'ultima, proprio sul tiro finale. Come avevo detto nell'analisi pre-partita di ieri, non sono cinici per niente e l'hanno dimostrato anche in questo frangente. Abbiamo rischiato tanto ragazzi, abbiamo rischiato addirittura dopo il rosso che tra l'altro secondo me, ok, segniamo, con un gol di Pulizio su corner, con loro veramente imbarazzanti su quel corner. Ragazzi, Club Rouge squadra discutibile, assolutamente, cioè non vincere contro il Club Rouge oggi sarebbe stato veramente grave, ma veramente grave perché è una squadra ragazzi altalenante già in Belgio, pensate comunque nel panorama europeo, non è una squadra, non è una squadra forte, ok? E lo avevamo analizzato, avevamo visto che comunque hanno qualche individualità interessante, ma il collettivo secondo me non è ancora rodato al massimo, sono altalenanti, in difesa ragazzi sono imbarazzanti e fanno fatica a uscire dal basso, infatti hanno sbagliato moltissimo, però nonostante questo noi secondo me ragazzi siamo riusciti comunque a farci impensierire più e più volte e la traversa loro, cioè, cosa è che se non sbagliano il gol o comunque hanno un pelino più di fortuna, la partita cambia, cambia come? e quindi ci è andata bene, ci è andata molto bene secondo me, poi dopo il rosso sicuramente ci hanno impensierito un po' meno, come normalissimo che sia eppure sono riusciti comunque a fare il pareggio, poi coi cambi sono contento, sono contento perché finalmente i cambi diventano decisivi, ok? quindi sono contento che Okafor e Ciukweze ci riescano a dare questo apporto e riescano a cambiare la partita in maniera importante contentissimo della doppietta di Renders, meritatissimo, un giocatore ragazzi clamoroso, lo sapete benissimo quanto io, quanto stimo Renders quanto amo quell'olandese Power Renders, ti amo, grandiosa, grandiosa partita anche di Pulisic quest'oggi il gol ripeto è un po' fortuito, un po' casuale da corner, ok? molto fortuito, molto fortunato anche come ha detto anche lui però tutto quello che arriva a Pulisic ad oggi è tutto meritato per la dedizione, per l'attitudine che ci sta mettendo e perché ragazzi è fortissimo, è un calciatore incredibile e si merita tutto quello che sta avendo ha fatto un inizio di stagione ragazzi, clamoroso, veramente clamoroso ci sono visti un po' di errori, a mio avviso non siamo stati sempre equilibrati, compatti ci siamo stati fatti trovare molto spesso con il solito problema dei buchi a centrocampo molto importanti, causati da una pressione secondo me non fatta in maniera perfetta causati anche da qualche palla persa, penso a Fofala nell'occasione iniziale, proprio all'inizio partita un mix di, mi avviso, poca intensità perché secondo me ragazzi siamo stati veramente molli e mi avviso non c'è stato l'atteggiamento giusto perché se avesse avuto questo atteggiamento con una squadra che non sbaglia quei gol lì, ripeto, sarebbe stata tutt'altra partita e sarebbe a commentare tutt'altro oggi, quindi è ok, vinto, ok tre punti, è tutto quello che volete ma bisogna avere lucidità, puoi analizzare la partita se vogliamo fare i seri e non si può parlare di una bella partita, non si può fare perché comunque chi l'ha vista e non si vede solo nelle lights e può pensare che vabbè hai dominato, hai fatto addirittura i 4-1 tra l'anno un lato, no, risultato mente perché abbiamo avuto più di qualche difficoltà e un conto è se tu le hai con una squadra di un livello alto e puoi anche accettarlo ma contro questa squadra di questo livello non è accettabile, non è accettabile e stiamo continuando a non vedere una continuità nelle prestazioni e quindi bisogna migliorare bisogna ancora migliorare, quindi non bisogna assolutamente esaltarsi per una vittoria contro il Kerb Rouge come non bisognava esaltarsi contro l'Udinese, bisogna continuare sicuramente a fare il risultato ma iniziare magari anche a portare un po' più di costanza all'interno della partita all'interno della prestazione stessa detto questo, vorrei toccare l'argomento Leao, lo tocco velocemente perché so benissimo che poi nei commenti qualcuno me lo può far notare perché in tanti mi scrivete anche su Instagram sapete quanto ho difeso Leao, quanto continuerò a difenderlo quanto lo amo, quanto credo nelle sue potenzialità vi dico proprio la sincera verità, per me Leao oggi non fa una partita così brutta a mio avviso gli strappi, ha fatto ballare il terzino ma ripeto come avevo detto nell'analisi i terzini a livello difensivo non erano questo gran che infatti hanno fatto fatica però secondo me ha fatto poco movimento come al solito troppe volte a chiedere la palla sui piedi puntava all'uomo ma come al solito secondo me perde sempre troppo tempo Leao deve migliorare, lo sappiamo benissimo sappiamo il potenziale che ha non mi sta piacendo l'atteggiamento extra campo campo è extra campo perché non venire sotto la curva di nuovo capisco non farlo dopo una sconfitta non è giusto ti fa incazzare ma anche non farlo dopo una vittoria ti fa capire ancora di più come c'è qualche problema evidentemente Leao in questo momento non so cosa sia successo nello spogliatoio ma non lo vedo sereno per niente mi preoccupa questa cosa perché Leao è un giocatore del Milan e ci terrei che fosse valorizzato e non fosse svalutato perché in questo momento ragazzi stiamo svalutando un giocatore forte che probabilmente avremmo 70, 80, 90, 100 insomma di cifre che spalavamo e invece adesso lo stiamo iniziando a svalutare e questo mi fa un po' preoccupare ci tengo a fare i complimenti anche a Ciuqueze perché è entrato bene, ha fatto l'assist del 3-1 per il resto ragazzi ripeto una prestazione secondo me è un atteggiamento non incredibile non mi ha convinto per niente soprattutto prendere quel gol e come l'hai preso in uno in meno cioè in uno in più con un uomo in più e ci sono stati tratti della partita con un uomo in più dove sembrava lo avessi tu l'uomo in meno cioè per me è inaccettabile quando vedi queste cose vuol dire che veramente non hai fatto una buona partita soprattutto nell'atteggiamento ragazzi perché se tu vai a 2000 all'ora è un'intensità importante sarei stato 3-4-0 all'inizio del primo tempo cioè per farvi capire la migliore inter che entra in campo con l'intensità che conosciamo ne fa 3-4 in 10 minuti a questo club rush quindi ripeto questo perché lo dico perché non voglio esaltare nulla perché non c'è niente da esaltare ci prendiamo questi tre punti che sono importanti che sono assolutamente servono tantissimo più della prestazione più del giocare bene eccetera eccetera perché adesso al Bernabeu sicuramente non difficilmente riuscirei a fare punti e poi inizia il filotto di vittoria che devi fare per poterti portare a casa almeno una classifica più alto in classifica per fare i playoff un po' più agevoli perché playoff ovviamente ti toccherà farli a meno che fai veramente un miracolo al Bernabeu ti porti a casa la vittoria e poi fai un filotto ma la vedo difficile comunque vedremo torno a dire che sono con la testa ancora a Camarda che segna e li viene annullato sono ancora lì mi dispiace ragazzi sono ancora lì neanche il tempo di finire questo video che ci dobbiamo vedere per l'analisi pre partita di Bologna e Milan quindi ci vediamo per l'analisi di partita di Bologna analisi tattica pre partita di Bologna e tra l'altro se gli va ragazzi visto che è finita la partita visto che l'avete vista eccetera eccetera se volete andare a vedere l'analisi tattica del pre partita a parte dopo il rosso che si è visto un club russo diverso i primi 30 minuti si sono viste spesso le cose che vi avevo accennato nell'analisi tattica buona giornata buonanotte buona seconda di quando state guardando questo video ho sempre difficoltà a salutarvi e sempre forza Milan sempre e comunque buona giornata